Oggi tutti i sondaggi danno come primo partito un partito che è Fratelli d'Italia che ha per ammissione della sua stessa leader Giorgia Meloni nel Pantheon Paolo Borsellino, però quello stesso partito risulta, le cronache mai smentite giornalistiche, è il partito che in realtà candida per primo Schifani, governatore della Sicilia. Ecco, volevo chiederle che opinione si è fatta di questo uso e abuso dei nomi dei suoi colleghi? Che dovrebbe smetterla? Che bisognerebbe essere coerenti con le politiche che si applicano e con l'antimafia? Non è possibile utilizzare il nome e ricordo di Paolo Borsellino e poi dall'altra parte avallare politiche che sono esattamente quelle contro cui Paolo Borsellino si è sempre battuto, perché Paolo Borsellino poneva l'indipendenza e l'autonomia al centro della magistratura. E quindi non potrebbe non essere contro una stagione in cui al di là dei santini che si agitano, la verità è che c'è una classe dirigente tra questi, Fratelli d'Italia, che ha indicato come ministro in pectore Nordio, il quale ha dichiarato che questa Costituzione non gli piace, ma poi secondo voi Nordio e Borsellino potevano andare d'accordo? No, non credo assolutamente che potevano andare d'accordo, sono gli antipodi. Uno ha attuato la Costituzione e l'ha difeso con la vita, l'altro dice che non gli piace, lo dice apertamente e che lo vuole cambiare. E quindi in Lameloni si decida, Nordio o Borsellino non si possono scegliere tutte e due insieme.